Senza di loro le vite di molte persone potrebbero essere a rischio, così come le loro case. Sono i precari discontinui dei vigili del fuoco che insieme ai loro colleghi effettivi vegliano 24 ore su 24 su di noi, andando a colmare quei buchi in organico non altrimenti colmabili. Ma malgrado la loro fondamentale importanza, la loro posizione lavorativa non dà sicurezza né economica né professionale, tanto da fargli portare avanti una battaglia che possa dargli certezze per il futuro. Da oltre un ventennio si cerca di trovare delle soluzioni e dare delle risposte a questo personale che in maniera discontinua, infatti il nostro nome dipende da questo, in maniera discontinua serve lo Stato, la popolazione e invece di avere dei meriti e quindi essere assunta in pianta stabile, visto che si è acquisita una certa professionalità, negli ultimi anni si è invece la politica, ha deciso di emarginare questa categoria cercando di eliminarla, il che porterebbe 16.100 persone sull'orlo del baratro perché non avrebbe un futuro, non avrebbe una serenità economica e familiare soprattutto. Quindi l'Associazione Nazionale di Scontinui nasce proprio per rivendicare questo diritto negato che nell'arco del tempo ha trovato una certa consistenza e che soprattutto negli ultimi periodi ci ha visto collaborare con tutta la politica, maggioranza e opposizione, riuscendo a trovare quelle che sono le risposte a tutto il personale. Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 24 maggio è passato un decreto legislativo di attuazione della legge della riforma della pubblica amministrazione inerente alle funzioni e ai compiti del Corpo dei Vigili del Fuoco, la revisione e il riassetto delle sue strutture organizzative e altre norme per ottimizzarne le funzioni. Durante il Consiglio dei Ministri è stata praticamente votata, o quantomeno vagliata, la possibilità di stabilizzare questo personale con un progetto che avevamo fatto spingere da tutta la politica, maggioranza e opposizione, dove si prevede l'assunzione di questo personale che abbia almeno tre anni di anzianità e non meno di 120 giorni di servizio. Poi naturalmente starà all'amministrazione e al Ministero stabilire se mettere questo personale in ruoli operativi, in ruoli non operativi o addirittura magari si può paventare la possibilità di spostarli in altre amministrazioni. Però riteniamo che questa è la risposta che tutto il personale precario dei Vigili del Fuoco si aspettava da molto tempo. Ora la parola tocca al MEF per garantire quella che è la copertura finanziaria di questo progetto, un progetto, ripeto, ambizioso che comunque sia andrebbe a dare merito a questi ragazzi. Noi dall'altra parte non abbiamo questo timore che non ci sia la copertura perché basti pensare che in una settimana si sono trovati 25 miliardi per le banche, 600 milioni per l'Alitalia, noi con queste cifre potremmo stabilizzare 16.100 persone.